ciao amici e benvenuti sui fantastici 5 shop in questo video scoprirai fantastici prodotti amazon iscriviti al canale clicca like ed ora partiamo numero 1 barattoli per sottaceti con filtro il set di barattoli cristallia include un filtro rimovibile con supporto e un coperchio ermetico a prova di perdite è realizzato in polipropilene resistente e durevole ed è ideale per conservare alimenti come olive sottaceti formaggi a fette o altri alimenti che devono essere conservati nei propri succhi o salamoni il design modulare due in uno consente di espandere le opzioni di conservazione mentre il pratico separatore di sollevamento consente di rimuovere sottaceti olive e altri alimenti conservati in liquidi numero 2 filtro d'acqua philips il filtro d'acqua philips è realizzato con membrana in fibra di carbone e fibra a cava che riduce efficacemente il contenuto di cloni piombo pesticidi microplastiche particelle fino a 0,1 micro filtra anche il 99 per cento dei batteri il filtro ha una capacità di filtrazione di 120 litri per litro e un flusso d'acqua di 2 litri al minuto il filtro può essere sostituito con un nuovo filtro con un semplice gesto e il timer che indica quando il filtro deve essere cambiato numero 3 distributore automatico di dentifricio il distributore è un'innovativa tecnologia brevettata doppia posizione che permette di erogare una piccola quantità di dentifricio per i bambini e una grande quantità per gli adulti in questo modo non mi saranno sprechi il prodotto realizzato in abbiesso materiale non tossico e resistente adatto per tubetti di dentifricio a una dimensione inferiore a 0,47 collici la sua installazione a parete è facile da installare non c'è bisogno di strumenti e può essere facilmente smontato e risciacquato con acqua in molti distributori di dentifricio può impedire l'ingresso di detriti e batteri migliorando in questo modo lo stile di vita e decorando anche il vostro bagno numero 4 tappo universale in silicone per la velita cucina vasche da bagno e docce questo tappo universale ha un diametro esterno di 110 mm ed è compatibile con la maggior parte degli scarichi con un diametro interno fino a 80 mm il tappo è dotato di un filtro integrato che trattiene i capelli residui di cibi e sporcizia senza perdite d'acqua grazie alla sua flessibilità il tappo si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di scarico